la fortezza è stata conquistata è finita avevi detto che non sarebbe mai caduta mentre i tuoi uomini la difendevano la difendono ancora sono morti per difenderla non c'è un'altra via per le donne e i bambini per uscire dalle grotte non c'è un'altra via c'è un passaggio conduce alle montagne ma non andranno lontano gli urukai sono troppi che le donne e i bambini si dirigano al valico tra le montagne e barricate l'entrata quanta morte cosa possono gli uomini contro un odio così scellerato vieni fuori con me affrontiamoli a cavallo per la morte e la gloria per rohan per il tuo popolo il sole sta sorgendo attende il mio arrivo alla prima luce del quinto giorno all'alba guarda est il corno di elmo mandi martello suonerà nel fosso un'ultima volta si fa che questa sia l'ora in cui squainiamo le spade insieme feroci atti sveglia non per colera non per rovina o la rossa aurora forza aurlinga Ah! Gandalf. Re Teoden è da solo Non da solo Roirim Eomer Eri Re Eri Re Eri Re Eri 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 Re Eri Re Eri Re Eri Re Eri Re Eri Re Grazie a tutti